Musica Sala Consilina, la Guardia di Finanza sequestra un autobut con gasolio, un denunciato. Sassano, presentato questa mattina il sistema di videosorveglianza. Olivo Coltura e Castanicoltura, danni a causa delle condizioni climatiche, la Giunta regionale emette una delibera. Buon Abitacolo, domani la presentazione dell'iniziativa Un Progetto al Mese, realizzato in collaborazione tra Comune e BCC di Buon Abitacolo. Potenza, domani la conferenza stampa di presentazione della ventesima edizione di Trendo Expo 2015, orientarsi al lavoro. Tra i partner anche la banca Montepruno. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione serale di Uno News. Come sentito nei titoli, nell'ambito dei servizi di monitoraggio economico del territorio, la Guardia di Finanza della tenenza di Sala Consilina, al comando di Giuseppe Iannarilli, hanno sequestrato un autobut con circa 26 mila litri di gasolio di provenienza illecita. Ed è stato denunciato una persona. Una persona deferida a piede libero alla Procura della Repubblica di Lago Negro e il sequestro di un autobut carico di gasolio e il bilancio delle attività condotte dalla Guardia di Finanza della tenenza di Sala Consilina. Nell'ambito dei servizi di monitoraggio economico del territorio, predisposti e coordinati dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, le fiamme gialle della tenenza di Sala Consilina hanno effettuato un intervento a contrasto delle frodi in materia di eccise sugli oli minerali. A Tejano, i militari della tenenza hanno sottoposto al sequestro di iniziativa un autobut trasportante circa 26 mila litri di gasolio di provenienza illecita. L'intervento della Guardia di Finanza ha avuto un igine da un'attenta e intensa attività di indagine che ha portato a scoprire informazioni sulla commercializzazione di contrabbando di prodotti petroliferi provenienti dalla provincia di Napoli. Il conducente dell'autobut è stato deferito a piede libero alla Procura della Repubblica di Lago Negro per l'ipotesi di reato di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici, come sancito dall'articolo 40,1 lettera G del decreto legislativo numero 504 del 95 relativo al testo unico sulle accise. Ancora una volta l'operazione delle fiamme gialle evidenzia il costante monitoraggio e controllo del territorio a tutela degli interessi economici e finanziari. E' stato trovato morto un uomo di 48 anni di Padula nella propria abitazione dai vigili del fuoco che sono entrati in casa a seguito dell'allarme lanciato dai vicini. L'uomo era probabilmente morto da 24 ore, come riferito dai sanitari accorsi sul posto. Sulle cause del decesso indagano i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Secondo quanto emerso sembra che l'uomo viveva solo e soffriva da qualche tempo di sintomi depressivi. Nei giorni scorsi si era recato a Bologna da dove era però subito rientrato. Non avendo sue notizie vicini hanno allertato i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina e i sanitari del PSAUT di Padula che giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. E voltiamo pagina. Abuso d'ufficio è il reato che viene contestato al manager dell'asile di Salerno Antonio Squillante che è stato ascoltato dal PM Vincenzo Montemurro sulla riorganizzazione aziendale in atto sulle nomine di primari oggetto di avvisi e concorsi interni ma anche sugli appalti. Il direttore generale dell'asile di Salerno Antonio Squillante è stato ascoltato dal PM Vincenzo Montemurro in merito ai diversi filoni di inchiesta condotti dall'antimafia. Per Squillante anche un avviso di garanzia per abuso d'ufficio. Come riportato da Corriere del Mezzogiorno il direttore generale dell'azienda sanitaria è stato ascoltato sulla riorganizzazione aziendale in atto e in particolare su accorpamenti di strutture complesse con relative nomine di primari oggetto di avvisi e concorsi interni. Ieri l'incontro con il magistrato per parlare anche di appalti sui quali si sono da tempo accesi i riflettori e sui quali le forze dell'ordine a seguito degli accessi nella sede centrale di Vianizza hanno raccolto carte e documenti che si sono aggiunti agli esposti al vaglio degli inquirenti. Gare espletate vinte con un ribasso che ha destato attenzione facendo scattare i controlli. La procura ordinaria e quell'antimafia stanno valutando le carte, stanno ascoltando le persone per capire e andare a fondo alla vicenda. Non a caso la DDA ha voluto sentire il direttore generale. Il manager rispondendo alle domande avrà anche chiarito la sua posizione. Sull'esito dell'incontro poco è dato sapere sull'intera vicenda. Non ci sono al momento indiscrezioni tuttavia squillante. Si dice tranquillo così come è enunciato ai giudici affermando di aver applicato la normativa ed eseguito le nomine secondo le disposizioni previste. Non è la prima volta che il dirigente dell'ASL di Salerno, una delle più estese del territorio, è coinvolto in procedimenti giudiziari ma sinora non vi è mai stata una condanna dimostrando la sua buona fede e la legalità negli atti compiuti in diverse attività anche fuori dalla gestione ASL come ad esempio per il caso del consorzio interfarmaceutico che pure lo aveva visto coinvolto e che poi è stato prosciolto. Da oggi sono attive 39 telecamere su un totale di 44 nel comune di Sassano che come annunciato dal sindaco Tommaso Pellegrino garantiranno maggiore tranquillità e sicurezza ai cittadini. Inoltre il sistema di videosorveglianza rappresenta la base per la realizzazione di una smart city. È stato presentato questa mattina nella sala giunta del comune di Sassano il nuovo e avanzato sistema di videosorveglianza che oltre a controllare tutti i punti d'accesso e i punti sensibili di Sassano rappresenta una vera e propria piattaforma per costruire una smart city ovvero una città intelligente. Da oggi come ha sottolineato il sindaco Tommaso Pellegrino sono attive 39 telecamere che sono state installate nei punti di accesso al paese e nei posti più sensibili per tutelare i cittadini da atti predatori. Sassano, ha giunto il primo cittadino da oggi, è un paese più sicuro. Con questo sistema di videosorveglianza si aggiunge un tassello importante nel più ampio progetto della costruzione di una smart city una città intelligente sul modello di tante altre cittadine europee. Il sistema di videosorveglianza è una base sulla quale implementare in futuro i nuovi sistemi che riguarderanno la raccolta dei rifiuti, l'illuminazione pubblica e tanti altri. Alla conferenza stampa è presente anche il capitano della Compagnia dei Carabinieri di Sala Consilina, Emanuele Corda. Il sistema prevede l'attivazione nei prossimi giorni di altre 5 telecamere per un totale di 44 telecamere complessive attive sul territorio e prevede due sale di controllo, una direttamente collegata con la Compagnia dei Carabinieri di Sala Consilina. Da oggi a Sassano sono attive 39 telecamere, tutti i punti di accesso a Sassano saranno videosorvegliati, tutti i punti sensibili come l'isola ecologica, il cimitero, il complesso sportivo, l'area PIP, il centro storico saranno controllati e sono videosorvegliati. Questo perché purtroppo anche i territori come i nostri, che una volta erano sicuri, oggi non lo sono più. E noi uno degli obiettivi principali della nostra amministrazione è certamente quello di dare e di fornire sicurezza ai nostri cittadini e alle nostre famiglie. Ecco, questo era un obiettivo importante ed è oggi Sassano è più sicuro, il messaggio a chi vuole delinguere nel nostro territorio è un messaggio molto forte. Noi diamo il nostro contributo alle forze dell'ordine, all'arma dei Carabinieri, tutte le forze dell'ordine che sono impegnate quotidianamente nei controlli del territorio, cerchiamo di dare il nostro piccolo contributo per far sì che quell'azione sia ancora più efficace. D'altra parte, oggi questa rappresenta anche una piattaforma per una smart city, c'è una città intelligente, così come viene in tanti cittadini europei, dove la tecnologia viene messa a servizio dei cittadini. Ecco, la vera sfida per il futuro che Sassano oggi lancia è proprio quella di costruire tanti servizi tecnologicamente avanzati, ma soprattutto utili per la gente. Giuseppe Colucci, consigliere comunale per il gruppo Progetto Sala, interviene in merito al manifesto apparso ieri a Sala Consilina con l'hashtag Io Voto Salese. Colucci in particolare, pur definendo positivo l'incitamento a votare Salese, sottolinea come sarebbe stato meglio parlare di Vallo Didiano. Poi però attacca la decisione di chi ha redatto il manifesto di non inserire la firma e quindi di rendersi irriconoscibile. Secondo Giuseppe Colucci, tale decisione crea confusione, che in questo periodo è sconsigliata, anche perché è preferibile per chi ha deciso di apporre tali manifesti che si faccia riconoscere, ancor più se presta o ha prestato servizio come rappresentante politico. Abbiamo visto sempre conquistatori, spiega Colucci, che sono venuti qui a fare promesse, raccogliere i voti e poi sono svaniti nel nulla. Il consigliere di Progetto Sala chiede che la persona che chiede il voto salese si faccia riconoscere, anche in virtù dei recenti accadimenti che hanno visto la soppressione del Tribunale di Sala Consilina, il passaggio a Consac della gestione idrica e la questione di stretto sanitario. Sala Consilina è letteralmente sparita dalla stampa locale, continua Giuseppe Colucci, se non per qualche notizia di cronaca, incidenti stradali, tempesti, alluvioni, furti e ora si chiede il voto salese. Vogliamo sapere chi è che lo chiede, bisogna capire se chi si propone è un semplice strumento di giochi politici con i quali ci hanno depredato il Tribunale, la sanità e i servizi sul territorio. Altrimenti che significato avrebbe il voto salese se poi viene portato ad Altrovallo oppure a Salerno? E adesso cambiamo argomento. Un incontro in Regione Campania sulla ripartizione degli spazi finanziari per gli enti locali c'è stato nei giorni scorsi e ha visto la presenza dei delegati della provincia. Una ripartizione che porterà maggior flusso di delario nell'ente provinciale. Come riporta il sito istituzionale della provincia di Salerno, si è svolto nei giorni scorsi presso la Regione Campania un incontro tra il vicepresidente Sabato Tenore accompagnato dalla dirigente del settore finanziario Marina Fronda con gli assessori regionali al bilancio Gaetano Giancane e agli enti locali Pasquale Sommese. L'incontro riguardava la ridefinizione dei criteri per la ripartizione degli spazi finanziari per gli enti locali che negli anni scorsi ha sforato il patto di stabilità. Nel corso dell'incontro è stata concordata una ridefinizione dei criteri per la determinazione del tetto di spesa per gli enti locali che tenga conto non solo della popolazione ma anche dell'estensione territoriale. Infatti la provincia di Salerno, a fronte di una percentuale di popolazione, intorno al 20% di quella regionale, ha un'estensione di circa il 35% dell'intera superficie regionale con tutto quello che comporta nella gestione e nella salvaguardia di un territorio così esteso. Quindi, con il nuovo tetto di spesa, la provincia di Salerno passa dai 5 milioni di euro degli anni precedenti ai quasi 8 milioni del prossimo futuro, considerato che i rappresentanti della regione hanno assunto l'impegno all'adozione in giunta regionale di una delibera autorizzativa in tal senso. La provincia di Salerno, in questo modo, conclude la nota, avrà la possibilità di realizzare più opere stradali e scolastiche così indispensabili e avrà la possibilità di lavorare alla riorganizzazione dell'ente con più tranquillità. Questa mattina, presso la sede di Confindustria Salerno, il presidente Mauro Maccauro ha presentato un documento inviato ai 5 candidati alla presidenza della regione Campania con 5 punti su cui sono chiamati ad intervenire in via prioritaria. Ma vediamo i dettagli nel prossimo servizio. Un beneficio fiscale per le imprese che decidono di investire in Campania e l'impegno a chi guiderà la regione dopo le elezioni del 31 maggio ad azzerare le addizionali che gravano sulle imprese. E quanto propone Mauro Maccauro, il presidente degli industriali salernitani, in un documento presentato oggi alla stampa ed inviato ai possibili candidati a governatore della regione insieme ad un invito a partecipare ad un confronto presso la sede di Via Madonna di Fatima. Nel documento, il vertice di Confindustria Salerno ha avanzato 5 priorità da affrontare affinché «Impresa chiami impresa», ossia il territorio campano diventi più appetibile. In primo luogo proprio il miglioramento della sensibilità industriale, ovvero la necessità di mettere in campo strategie per migliorare la competitività di un territorio che deve poter garantire anche un maggior impegno alla salvaguardia dell'habitat, inteso sia come risanamento delle aree inquinate, ma anche come contesto nel quale operare in piena legalità. Maccauro ha chiesto a nome degli industriali salernitani e anche di mettere mano finalmente alla semplificazione. Le imprese hanno bisogno di un percorso chiaro e tempi definiti, oltre che di sgravi fiscali e di una nuova e più incisiva programmazione dei fondi europei. In poche parole, ridare dignità alla campagna, dice il presidente di Confindustria Salerno, che non ha mancato di evidenziare anche 5 aspetti che rappresentano i punti di forza, i motivi per i quali gli imprenditori scelgono di esserci e di restarci. Un patrimonio fatto di cultura, di bellezza, ma anche di buoni rapporti sindacali e un vivace bacino di intelligenze giovanili, nutrito dai sei Atenei, oltre naturalmente a ruolo strategico rispetto al Mediterraneo, nel quale il porto di Salerno è un elemento da valorizzare. Per Maccauro, infine, che cita l'esempio della Fiat di Pomigliano, può determinarsi l'effetto calamitoa e anche le multinazionali, che sono scappate via dal nostro territorio, possono tornare ad investire se saranno create le condizioni giuste. È insopportabile che in Regione Campania abbiamo addizionali, penso all'IRPEF e penso all'IRAP, tra le più alte d'Italia. È un obiettivo misurabile. Chiediamo e chiederemo ai candidati governatori della Regione Campania di prendere questo impegno, arrivare al termine della legislatura azzerando le addizionali che abbiamo in questa Regione. Significherebbe rimettere in tasca i soldi ai cittadini, significherebbe aver risolto le problematiche per cui per tanti anni i cittadini hanno fatto sacrifici con i propri soldi per cercare di risolvere i problemi come quelli della sanità. Ci piace pensare che il prossimo governatore, la prossima giunta regionale, abbia una sensibilità industriale forte, metta al centro dell'attenzione lo sviluppo, le problematiche della fabbrica e giustamente giocare la partita più importante, quella della semplificazione. Le aziende investono se sanno che hanno regole certe, regole chiare e tempi soprattutto certi, ma mettere in evidenza quelle che sono le priorità che secondo noi servono per rilanciare l'economia e per rilanciare lo sviluppo. Le condizioni climatiche dello scorso autunno hanno provocato notevoli danni alle culture di ulivi e castagne. In regione sono giunti numerosi appelli di intervento in considerazione dell'enorme danno causato per la perdita del raccolto. La giunta regionale ha quindi emesso delibera che è stata inviata al Ministero delle Politiche Agricole, proprio a sostegno degli operatori del settore. L'andamento climatico dello scorso autunno sembra abbia causato notevoli problemi alle culture olivicole e castanicole della Campania. Nei mesi scorsi diverse aziende hanno presentato alla regione Campania istanze per chiedere un intervento in considerazione della notevole riduzione del raccolto. Dai dati che emergono, in virtù anche delle segnalazioni pervenute in regione, sembra che nell'autunno del 2014 si sia registrata una diminuzione del raccolto notevole con percentuali che varia dal 60 all'80% per la cultura dell'olivo con un dato ben più drammatico per ciò che riguarda invece la cultura castanicola che ha fatto registrare una perdita nel raccolto fino al 90%. Sembra che le condizioni climatiche sfavorevoli abbiano causato anche un notevole aggravamento delle specifiche avversità entomologiche e patologiche con un notevole aumento di danni causati da insetti o da patologie tipiche delle piante che hanno ulteriormente ridotto il fattore economico derivante dal raccolto. La regione Campania, preso atto dei dati forniti e delle diverse segnalazioni pervenute sia da parte delle aziende che degli enti locali, ha avviato azioni a sostegno degli agricoltori operanti nei due settori di interesse specifico. Gli strumenti normativi al momento in atto non consentono interventi in tal senso e quindi non riconoscono alcuna forma di sostegno per le aziende colpite da tali fenomeni, pur rilevando un notevole danno al settore economico. Non sono infatti riconosciuti dalle normative vigenti né premi assicurativi né interventi compensativi. Per ovviare a tale lacuna, la Giunta regionale della Campania ha pertanto emesso delibera con il quale è stato richiesto al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di prevedere l'ipotesi di interventi straordinari in linea con le norme comunitarie sugli aiuti di Stato a favore delle aziende olivicole e castanicole danneggiate dal particolare andamento climatico e fitosanitario nell'annata agraria 2014, al fine anche di salvaguardare il patrimonio olivicolo e castanicolo campano e l'assetto socio-economico di numerose aree di produzione, soprattutto interne e marginali. Si attende ora una risposta dal Governo al fine di poter concretamente intervenire su una problematica che va a danneggiare in modo deciso un settore di particolare valore per l'intera regione Campania. Presso il Centro Sociale La Cupola di Buonabitacolo sarà presentata ai cittadini l'iniziativa che prevede finanziamenti per la realizzazione di quattro progetti nei prossimi quattro mesi, denominata proprio Un Progetto al Mese. Domani sera alle 19 a Buonabitacolo sarà presentata l'iniziativa Un Progetto al Mese finalizzata essenzialmente a guardare con ottimismo e fiducia al futuro. L'idea, partita dal Comune di Buonabitacolo ha visto la pronta adesione della BCC di Buonabitacolo. Domani sera la presentazione presso il Centro Sociale La Cupola dove a partire dalle ore 19 il Sindaco di Buonabitacolo Elia Rinaldi e il Direttore della BCC Angelo De Luca oltre al Presidente dell'Istituto di Credito Giovanni Rinaldi spiegheranno nel dettaglio in cosa consiste l'iniziativa e come sarà possibile aderire. Nei prossimi quattro mesi saranno attivati altrettanti progetti grazie alle risorse economiche messe a disposizione dalla BCC di Buonabitacolo diretta da De Luca. Progetti finalizzati alla valorizzazione del tessuto economico e sociale con particolare attenzione alle idee progettuali destinate all'agricoltura per il rilancio del settore primario e la riqualificazione delle piccole aziende agricole del territorio la cui realizzazione sarà possibile proprio grazie ad un plafond di un milione di euro ed è proprio sul rilancio del settore agricolo che si punta attraverso l'iniziativa con finanziamenti di microcredito concessi dalla BCC di Buonabitacolo in grado di dare al settore un ruolo centrale nello sviluppo economico del piccolo centro valdianese. Naturalmente l'attenzione non sarà focalizzata solo sul settore agricolo ma si punterà anche a dare sostegno alle start-up e soprattutto ai giovani interessati ad avviare attività di sviluppo innovative molte imprese start-up nascono da semplici idee, intuizioni che possono con un buon studio iniziale in poco tempo volgere a grandi imprese ma per fare questo è necessario anche trovare i giusti finanziamenti investitori privati o pubblici che credano nelle idee questo per una start-up è un punto molto delicato soprattutto all'inizio dove la giovane impresa deve essere supportata nei primi passi un concreto sostegno economico per il recupero del tessuto urbano la riqualificazione del centro storico la rinascita del senso di comunità il progetto attraverso le agevolazioni economiche concesse dalla BCC di Buonabitacolo ha la finalità di valorizzare il patrimonio edilizio avente destinazione d'uso residenziale e nel contempo di contribuire a ridurre il degrado ambientale a rallentare i processi di desertificazione urbana e favorire l'economia locale piccola imprenditoria, artigiani e agricoltori infine un'iniziativa progettuale che supporterà la qualità dell'ambiente con incentivi alla raccolta differenziata domani sera, venerdì 10 aprile alle ore 19 presso il centro sociale La Cupola nel parco Carlo Alberto della Chiesa nel corso dell'incontro pubblico sarà possibile per i cittadini interessati poter raccogliere ulteriori informazioni sull'importante iniziativa di sviluppo frutto della collaborazione tra Comune e BCC di Bonabitacolo a favore della comunità bonabitacolese si terrà domani mattina a Potenza la presentazione ufficiale della ventesima edizione di Trend Expo 2015 orientarsi al lavoro in programma dal 14 al 17 maggio a Potenza l'evento vede tra i partner anche la Banca Montepruno entrata nel gruppo a fine di favorire la collaborazione tra i settori economici del sud di Salerno e la Basilicata si avvicina sempre più un altro importante appuntamento che può, se ben sfruttato dare la giusta visibilità al territorio del Vallo di Diano e della parte sud della provincia di Salerno oltre che finalmente offrire rilancio al tessuto economico dell'area in vista di Expo 2015 a Potenza nel corso del ventennale di Trend Expo 2015 orientarsi al lavoro sarà possibile realizzare un programma ed un progetto condiviso tra Basilicata e Sud Campania per la promozione dell'area alla grande manifestazione milanese in programma da maggio ad ottobre giungere preparate a Expo 2015 con una chiara idea di promozione e valorizzazione individuando le peculiarità su cui poter puntare per il rilancio dell'economia diventa oggi più che mai fondamentale oltre ad essere un'opportunità imperdibile consapevole di tale occasione e che potrebbe non presentarsi più la Banca Montepruno ha aderito al progetto ideato dalla società cooperativa Job Enterprise diventando partner del progetto Trend Expo e offrendo così anche al territorio su cui opera di partecipare all'evento in programma a potenza dal 14 al 17 maggio attraverso la collaborazione dell'istituto di credito diretto da Michele Albanese sarà anche possibile creare un collegamento forte e duraturo tra operatori economici della provincia di Salerno e della Lucania la presentazione ufficiale di questa ventesima edizione si terrà domani mattina alle ore 10 presso il Teatro Stabile di Potenza dopo la presentazione del progetto avvenuta nelle scorse settimane presso la Sala Cultura della Banca Montepruno a Sant'Arsenio l'evento che si svolgerà a potenza nella centralissima piazza prefettura promuoverà anche l'innovazione delle aziende offrendo a tutti i partecipanti un'occasione di business attraverso la condivisione e lo scambio di idee e know-how nello specifico inoltre l'edizione 2015 punta a patrimonializzare l'esperienza del ventennale del Trend Expo e presentare il nuovo format del suo ideatore Enrico Sodano rafforzandone la visione verso Expo 2015 e Matera Capitale della Cultura 2019 è previsto il coinvolgimento di circa 5.000 studenti delle scuole superiori di Basilicata, Campania, Puglia e Calabria di istituzioni, ambasciate, partenariato economico e sociale scuole e dell'Università degli studi della Basilicata con l'auspicio di raggiungere anche le 70.000 presenze durante la conferenza stampa di domani saranno approfondite le tematiche relative all'iniziativa alla presenza tra gli altri anche del direttore generale della Banca Montepruno Michele Albanese in qualità di membro del comitato scientifico che sta dettando le linee guida per la definizione di questo progetto oltre all'appuntamento di maggio a Potenza la Banca Montepruno sta promuovendo d'intesa con la Job Enterprise diverse agevolazioni a favore della clientela le quali mirano all'organizzazione di una missione di sviluppo durante Expo 2015 a Milano Questa sera, subito dopo il nostro Tg andrà in onda una nuova puntata di Angolo Cusati ospiti del salotto di Pietro Cusati il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri e il consigliere comunale di Polla, Fortunato Darista tema dell'appuntato odierna la questione Parco Nazionale, Cilento, Vallo di Diano e Alburni peso o opportunità? è possibile uscire e chiedere una riperimetrazione? il dibattito di questi ultimi mesi infatti riporta alla ribalta alcune delle principali difficoltà riscontrate nell'appartenenza al parco con i vincoli esistenti oltre all'emergenza cinghiali che spesso raggiungono i centri abitati di questo ed altro si parlerà subito dopo il nostro Tg all'Angolo Cusati e adesso diamo spazio alla regia per qualche istante di pubblicità ci ritroviamo tra pochissimo con le altre notizie del nostro telegiornale rieccoci studio per la seconda parte di Uno News il prossimo 2 maggio è previsto il passaggio nel Vallo di Diano del NoTriV Bike Tour che toccherà diverse località degli Appennini partendo dal Molise in vista di tale data il Comitato NoPetrolio è organizzato per il 26 di aprile la giornata di gardening urbano dal Comitato NoPetrolio arriva la proposta per un'iniziativa dedicata ad un miglioramento delle condizioni estetiche e paesaggistiche dei diversi territori comunali in vista dell'annunciato arrivo nel Vallo di Diano del Tour Terre di Passaggio NoTriV Bike Tour previsto per il 2 maggio dopo la sosta a Muro Lucano per poi proseguire partendo da Atena Lucana verso Vigiano il Tour che toccherà diverse località degli Appennini partendo da Santa Croce in provincia di Campobasso nel Molisano toccherà i territori del Sannio, dell'Irpinia, del Vallo di Diano dell'Alta Basilicata fino a giungere in Val d'Agri dove è prevista la conclusione la partenza è prevista per il 29 aprile e come detto giungerà nel Vallo di Diano il 2 maggio per tale occasione il Comitato NoPetrolio chiede la partecipazione di tutti i cittadini per un evento correlato e denominato gardening urbano l'iniziativa prevede la creazione di squadre per ogni comune al fine di avviare azioni di giardinaggio finalizzate al miglioramento delle condizioni di decoro urbano in una giornata dedicata e individuata nel 26 aprile per meglio organizzare l'evento e al fine di creare una rete condivisa di azioni l'11 aprile presso l'auditorium di Atena Lucana Scalo è previsto una riunione organizzativa tale azione, spiegano dal Comitato vuole dimostrare la sensibilità che i cittadini hanno per il proprio territorio quello stesso territorio che porta con sé un valore ancora poco conosciuto abbellire il tessuto urbano vuol dire un primo passo per incentivare la cultura del turismo migliorare la vivibilità e la percezione del paesaggio creare una rete di innovazione sociale tra gli abitanti del Vallo di Diano ogni gruppo sarà libero di scegliere una pianta o un fiore simbolo della propria partecipazione per ogni paese, spiegano ancora i membri organizzatori sarebbe opportuno individuare delle squadre con un capogruppo che coordini l'iniziativa il Comitato cercherà di avere i permessi da tutti i comuni del comprensorio sperando in un'azione avallata anche dalla politica locale per questo sarebbe opportuno avere le adesioni con i punti scelti il prima possibile è in programma per domani venerdì 10 aprile alle ore 18 durante l'assemblea dei soci dell'associazione Montepruno Giovani presso il ristorante Borgo Lucano di Atena Lucana alle ore 18 la presentazione della nuova iniziativa dedicata ai più piccoli l'idea nasce dalla volontà di avviare un percorso di vicinanza alla banca Montepruno e ai valori della stessa già dalla giovanissima età avvicinando bambini e ragazzi alle attività della banca creando manifestazioni ed appuntamenti a loro dedicati potranno essere iscritti al club Montepruno Baby tutti i figli degli associati della Montepruno Giovani dalla nascita e fino al compimento del 14esimo anno di età nel progetto di costruzione della nuova iniziativa sono state inserite diverse attività come l'organizzazione di eventi ludici momenti di socialità, aggregazione tra le famiglie, appuntamenti a tema campi scuole estivi, cinema per bimbi e ragazzi la banca Montepruno in aggiunta ha già previsto la creazione di pacchetti di prodotti bancari ad hoc come ad esempio libretti di risparmio al fine di avviare e successivamente sviluppare la cultura del risparmio dando il giusto valore al denario e al suo utilizzo oltre alla presentazione di domani ulteriori informazioni potranno essere richieste attraverso l'indirizzo mail dell'associazione Montepruno Giovani giovani-bccmontepruno.it e cambiamo argomento venerdì 27 aprile sarà presentato il libro di Giuseppe Barra Magia, Fatture e Pozioni nella Lucania Antica l'evento si terrà presso la libreria Ex Libris Caffè e prevede anche l'arricchimento dello scaffale del libro sospeso con alcuni volumi donati dall'autore del libro in presentazione le iniziative della libreria Ex Libris Caffè di Polla continuano e sono tutte legate alla cultura e alla diffusione della lettura soprattutto tra i giovani il prossimo evento che vedrà protagonista la libreria di Michele Gentile è la presentazione del libro di Giuseppe Barra dal titolo Magia, Fatture e Pozioni nella Lucania Antica un viaggio verso quelle che sono le tradizioni popolari che tuttora persistono nei territori tra Basilicata e Campania dal malocchio agli specchi velati alla presenza di un defunto per impedire, secondo gli antichi, che le anime dei morti riflettendosi potessero perdere la strada così come, altro esempio, l'usanza di inserire nella barra anche oggetti che venivano considerati utili per affrontare l'estremo viaggio la storia, la tradizione e la cultura di un territorio sarà quindi protagonista il prossimo 17 aprile alle ore 17.30 presso la libreria Ex Libris Caffè dove sarà anche possibile prendere visione dei numerosi volumi presenti sullo scaffale del libro sospeso altra iniziativa attivata al fine di promuovere la lettura sono diversi infatti i testi acquistati e lasciati a disposizione dei giovani di età compresa tra i 10 e 18 anni che potranno entrare in possesso gratuitamente il progetto Il Libro Sospeso sarà protagonista anche in occasione della presentazione del libro di Giuseppe Barra direttore editoriale della redazione della casa editrice Il Saggio che lascerà a disposizione dei giovani presso lo scaffale del libro sospeso alcuni dei suoi scritti la serata sarà arricchita da una piacevole conversazione su quelli che sono gli argomenti trattati nel volume a partecipare all'incontro moderato dal giornalista e storico Giuseppe D'Amico oltre all'autore Giuseppe Barra anche Angela Furcas e Vitina Paisano ospite d'eccezione il vescovo della diocesi di Tegiano Policastro Monsignor Antonio De Luca per ciò che riguarda invece il progetto legato al libro sospeso si ricorda che tutti possono contribuire acquistando un libro presso la libreria Ex Libris Cafè di Polla lasciandolo poi in custodia del libraio che lo consegnerà entro sette giorni per sapere a chi è stato consegnato sarà possibile richiedere direttamente il nominativo presso la libreria di Michele Gentile oppure chiedere che sia inviato direttamente il nominativo all'indirizzo mail indicato domani sera venerdì 10 aprile alle ore 20 e 30 che entra presso il centro di Anum di San Marco a Tegiano si terrà un incontro dedicato all'agricoltura e al possibile sviluppo per il territorio l'incontro dal titolo Agricoltura quale opportunità è organizzato dall'amministrazione comunale di Tegiano guidata dal sindaco Rocco Cimino su iniziativa dell'assessore delegato alle politiche agricole Crescenzio De Paola l'incontro è aperto al pubblico e prevede gli interventi di agricoltori e tecnici del settore Voltiamo pagina Domenica 12 aprile a Padula la presentazione del libro del giornalista Bartolo Scandizzo Io in cammino con te L'incontro è organizzato dal Circolo Sociale Carlo Alberto 1886 Il Circolo Sociale Carlo Alberto 1886 ha organizzato per domenica 12 aprile alle 18 nel salone della sede sociale un incontro culturale con il giornalista Bartolo Scandizzo fondatore e direttore responsabile del settimanale Unico L'incontro sarà anche l'occasione per il giornalista di presentare il libro Io in cammino con te, scritto a quattro mani. L'opera infatti è stata scritta da Bartolo Scandizzo insieme alla moglie Gina Chiacchiero Io cammino con te è un diario in cui gli autori raccontano la loro straordinaria esperienza del viaggio lungo il cammino di Santiago de Compostela attraverso una serie di annotazioni puntuali di natura storica, geografica, meteorologica, paesaggistica attraverso centinaia di chilometri in macchina prima e a piedi dopo quando inizia il cammino storicamente individuato e percorso dai pellegrini La moglie Gina è coprotagonista del libro non tanto e non solo come compagna di viaggio ma anche come collaboratrice preziosa alla struttura del diario Il libro pertanto insieme ad un viaggio poetico di Scandizzo propone un gradevolissimo diario di Gina in una prosa coinvolgente e non priva di riflessioni che trasmigrano in immagini poetiche perché Gina le feconda dalla sua contagiosa sensibilità di donna L'appuntamento dunque per domenica 12 aprile 18 presso il salone del circolo sociale Carlo Alberto 1886 E questa era l'ultima notizia di Uno News Per ulteriori approfondimenti e notizie potete consultare il nostro sito internet all'indirizzo www.unotvweb.it Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata